Allora, buonasera, eccoci di nuovo qui. Dunque, stasera facciamo il secondo incontro di questo corso di Blender 2.8. Il secondo incontro, ovviamente nel primo incontro abbiamo fatto, nel primo e poi anche nel laboratorio abbiamo fatto un po' di prove di modellazione e di texturizzazione. Quindi avete visto, sia pure in modo molto elementare, come fare un tavolino, addirittura qui c'è questo tavolino trasparente e ho visto che molti e molte di voi hanno fatto cose di questo tipo. Quindi tavolini, diversi di voi hanno fatto anche le palizzate e come dicevo non sono proprio cose banali. Diciamo che per superare il corso è sufficiente fare il tavolino anche non trasparente, quindi mettiamoci le cose chiare. Poi ovviamente chi fa anche il resto chiaramente merita un plauso perché l'idea è quella di fare un corso che vada bene anche a più livelli. Quindi chi inizia adesso magari farà fatica a fare il tavolino, ma chi magari già anni che usa Blender e il tavolino forse lo sapeva già fare anche prima, quindi adesso sta probabilmente imparando qualcosina in più, come appunto la trasparenza, piuttosto che un modo di texturizzare interessante. Ah, tra l'altro vi ricordo a tutti, probabilmente lo sapete già perché c'è molto commistione, che c'è anche l'altro corso, quello di Viaggio nei Mondi Virtuali. Allora, non so quanti di voi non hanno fatto quel corso di Viaggio nei Mondi Virtuali? Domanda solo per capire. Allora ce n'è una. Ecco, ma probabilmente ce n'è anche più di uno che non l'hanno fatto. Allora il corso dei Mondi Virtuali è un corso che è fatto da vari volontari, tra cui, in primis, l'organizzazione è stata di Giliola, che non so se è qua, non so se la vedo, ma Edu3D, insomma, da anni che cerca di insegnare un po' come sopravvivere nei Mondi Virtuali e poi soprattutto con il contributo attivissimo di vari tutor, tra cui Michelangelo, Eva Kraj, Sergei, Zarf, insomma, tutte persone che volontariamente hanno messo le loro, chiamiamole competenze comunque, le loro conoscenze, quello che hanno fatto nei Mondi Virtuali, hanno cercato di insegnarli. E quindi, in particolare, Michelangelo credo che abbia fatto uno sforzo notevole proprio di organizzazione di corsi di scripting e anche di building, credo che abbia fatto. E molte delle cose che vedete qua sono fatte da lui, mentre invece altre cose tipo abbigliamento e cose del genere, adesso non so chi le abbia fatte esattamente, ma andiamo un po' per esempio questo abbigliamento qua. Ah beh, è Giliola, quindi sono prese. Però anche abbiamo Eva, che sa fare gli abiti. Insomma, tutte queste attività fatte nel corso di Viaggio nei Mondi Virtuali, sappiate che giovedì c'è, tra l'altro chi è partecipato più attivamente, io purtroppo chiedo scusa, ma negli ultimi mesi sono stato molto preso da vicende di lavoro, quindi non sono riuscito a seguire molto il corso, che è stato probabilmente uno dei migliori mai fatti in Edu3D. però credo che giovedì ci sia un incontro riassuntivo, insomma, di fine corso, a cui ovviamente siete invitati tutti, no? Cioè, Eva mi confermi, no? Che sia giovedì questo... Non vorrei mai farmi... La festa finale, perfetto. Quindi sappiate che siete tutti invitati a venire a vedere, così conoscerete anche, se non lo conoscete già Michelangelo, conoscerete anche Sarchiei o Giglioli, insomma, o altre persone che verranno. E probabilmente verranno anche altre persone di Kraft. Ok, allora, scusate la piccola divagazione. Torniamo un attimo nell'obiettivo di stasera. Allora, tutti voi vedete in qualche modo, attraverso Zoom, eccetera, che sopra di me ci sono due sferelle. Le vedete queste due sferelle? Ecco, queste due sfere sono... Certo, ma sappiate che comunque molte, praticamente tutte le iniziative di Edu3D, salvo contingenze locali, sono sempre aperte a tutti. Quindi non è un mistero, insomma. Di solito non facciamo cose per pochi eletti. A meno, ovviamente, che non ci siano persone, degli hacker o comunque delle persone che diano fastidio o facciano cattiverie. Allora, in qualche modo, ci cerchiamo anche di difendere, ma è sopravvivenza quella. Quindi l'idea è di accogliere tutti, salvo appunto che non ci siano degli elementi contrari. Insomma, c'è proprio delle cose... E se poi cresce la sim, pazienza, voglio dire che... Quanto chi di voi è con noi dal 2007-2008 forse si ricorderà che all'inizio, quando OpenSim era ancora al stato sperimentale, le sim crashavano praticamente cinque o sei volte a sera. E si riusciva lo stesso a riunirsi e a fare un sacco di cose. Adesso che siamo molto meglio messi, le sim cascano ancora, ma non con quella frequenza. Diciamo che a suo tempo, quando cresciamo le sim, lo prendevamo come un... non dico un bene augurio, ma comunque un elemento di interesse della serata. Quindi non come una... da disgrazia. Ok. Allora, torniamo un attimo alle nostre sfere. Allora, se notate, queste sfere hanno delle texture un pochino, diciamo, elaborate. Per fare queste texture, non è facile. Se uno dovesse proprio costruire la texture di zero, sarebbe un disastro. Dunque, queste texture sono ottenute con una tecnica, che è quella che un po' cercherò di spiegarvi stasera, ho fatto vedere anche nei video, che è quella che consente praticamente di immergere un oggetto in un ambiente illuminato e di praticamente ricevere la luce dell'ambiente e di usare la luce griglia dell'ambiente per produrre, cioè fare una sorta di... una specie di fotografia dell'ambiente che li circonda. quindi nel caso specifico queste sfere sono state immerse in un... in un ambiente HDR, come diceva qualcuno. Quindi HDR tra l'altro ve lo spiego anche. HDR vuol dire High Dynamic Range. High Dynamic Range e sono delle foto tipicamente che sono caratterizzate dal fatto di essere molto nitide, sia nelle parti scure che nelle parti chiare. Questo è un problema nel senso che se voi fate una foto normale, al cielo ad esempio, e nella foto compare anche un pezzo di terreno. Succede che la parte di terreno tende a diventare troppo scura oppure la parte del cielo tende a diventare troppo chiara. Non so se avete... qualcuno di voi fa foto col cellulare anche? Ecco, se avete mai provato a fare foto di questo tipo, vi renderete conto che non è facile fare foto ad effetto. Invece i pubblicitari tipicamente fanno foto definite sia nel cielo, le nuvole, sole, raggi, eccetera, e sia nel terreno, nelle ombre. Questo lo possono fare perché c'è proprio una tecnica e ma non è solo una questione di esposizione, perché è proprio l'esposizione il problema. Cioè se tu adegui l'esposizione per le parti chiare, allora le parti scure diventano automaticamente nere. Se tu invece regoli l'esposizione per le parti scure, le parti chiare diventano bruciate. Quindi è un problema abbastanza complesso, ma che attraverso delle opportuni strumenti, sì, dipende anche da luce, ma sostanzialmente quelle immagini lì che vedete sono immagini che sono ritoccate. C'è proprio un ritocco che permette di… beh, da un lato ci sono proprio delle macchine fotografiche che costano lira di Dio, che permettono di avere una reattività alla luce chiara e forte notevole. Però ci sono anche proprio dei metodi computeristici e elaborazioni grafiche che permettono di ottenere questo effetto. Ma senza stare lì e entrare nel dettaglio, questa tecnica si chiama HDR o e se siete curiosi di vederlo basta che andiate su internet e cerchiate praticamente HDR. Quindi se voi cercate HDR download, perché potete cercare delle immagini da scaricare, ad esempio avete questo HDRI Haven. Haven sarebbe un posto da dove… non so se sia un punto dove si trovano tante HDRI e così via. Questo qui HDRI Haven è interessante, l'ho visto stasera, nel video ne ho visto… dove avete visto un altro, ma ci sono parecchie possibilità e comunque qui ci sono ad esempio parecchie immagini ad alta dinamicità. Insomma, ci sono tutte solo esterni, cieli, interni, studio, natura, urbano, night, eccetera. Tipicamente le cose più belle sono degli esterni o dei cieli. Per esempio, se voi andate in Skies, vedete che ci sono tipo dei laghi, anche se ci sono varie tecniche per permettere di quelle. Però diciamo che l'obiettivo non è quello di farvi, come dicevo prima, di farvi fare le foto, ma di poter sfruttare delle foto che trovate magari in giro. Cioè l'obiettivo in realtà è ottenere questi ambienti che diano una specie di realismo alle texture che poi andrete a creare. Quindi, per esempio, se noi… Tanto non so se notate, queste immagini non solo sono HDR, ma sono un po' strane, perché sono delle specie di immagini a 360 gradi. Non so se avete mai visto le immagini a 360 gradi. Quindi, essendo immagini a 360 gradi, sono progettate proprio per poter essere messe dentro delle ambientazioni 3D in modo tale da fare tutto l'orizzonte, da coprire tutto l'orizzonte. Quindi anche in Sketchfab, come diceva Eva, ma anche appunto in Blender. Cioè noi possiamo avere una copertura totale di tutto l'orizzonte come se noi fossimo immersi in questa cosa. Quindi adesso ne scegliamo una, per esempio questa scena qua. In questa scena ci sono varie risoluzioni e c'è anche un formalismo. Adesso questo qui è un modo di fare l'immagine HDR che è già molto sofisticato, tipo PNG, JPEG, che però fortunatamente viene letto da Blender. In altri casi potete trovare delle immagini che sono in formato JPEG o TGA, insomma questi formati eccetera. Allora io consiglio di scaricare da questi siti o in JPEG oppure anche l'HDR. Se scarica, tra l'altro notate qua, probabilmente sì, adesso io non sono esperto fotografo, ma so solo che ad esempio ci sono dei programmi, delle app per il mio cellulare che possono trasformare un'immagine aggiungendo un trattamento HDR. E tra l'altro fanno un bel lavoro, nel senso che io ho fatto delle foto e state ritoccate e viene fuori una bella cosa. Comunque, se voi scegliete, diciamo, la licenza CC0 sapete tutti cosa vuol dire? Perché ogni tanto... Io tra l'altro non mi ricordavo più, ma vedendo licenza CC0 sono sempre molto contento perché il CC0 vuol dire che questo tipo di immagini può essere usato, sono di domino pubblico, vuol dire. Domino pubblico vuol dire che potete usarlo senza dover necessariamente specificare da dove l'avete presa. Quindi sono praticamente un proprietà del genere umano, quindi una cosa estremamente interessante. Quindi prendiamo la risoluzione più bassa tipo 1K, questa, ed è che scarica un punto HDR. Questo HDR lo prendiamo, quindi si chiama Small Harbor, e poi lo copiamo. Ecco, non so se avete fatto caso, ma quando si lavora con Blender è sempre opportuno cercare di essere ordinati. Quindi mi sono fatto una cartella Blender e qui cerco di mettere le cose che ci interessano. Vedete che ho messo Small Harbor 01 1K. Oppure voi potete fare una cartella con quello che state facendo. Adesso serve proprio perché io da Blender adesso cosa faccio? Cercherò di prendere quell'immagine e di metterla come sfondo. Ora, probabilmente non l'avete visto, o se l'avete visto in velocità, vi faccio vedere come mettere un'immagine di quel tipo come sfondo. Allora, qui Screencast Case, così vedete quali sono i tasti che premo. Vi ho fatto già notare nei video che c'è una cosa che mi piace moltissimo nelle ultime build di Blender 2.8, che mentre due o tre mesi fa avevano cancellato tutti i colori delle icone, erano tutte icone bianco e nere, adesso per la gioia dei dislessici come me, hanno fatto tornare un po' di colori. E i colori hanno un significato. Quindi il fatto di... cioè il problema è in Blender vecchio soprattutto, che c'erano un sacco di simboli e non si capiva mai bene quale fosse il simbolo che ti interessava. Io ad esempio confondevo questo simbolo nel vecchio Blender con questo simbolo e non li capivo mai dove fossero. Adesso li hanno messi rossi e rosso vuol dire che sono associati a dei materiali o delle texture. Infatti qui, se andiamo in basso, c'è un altro pezzo qua. No, ci saranno poi altri pezzi rossi. Comunque, le pezze associate alle texture... Se tu li hai tutti grigi vuol dire che non hai l'ultima build. Io questa build l'ho scaricata oggi, in effetti. E la build, per sapere quale avete... però è già da un paio di settimane almeno che così. Quindi questa build qua... se riuscirò mai a capire come si fa... Ah, forse file... no. Una volta l'avevano messa in un altro punto. Ah, forse qua. Splash screen. Adesso l'hanno messa proprio un menu anche qui. Quindi splash... forse anche addirittura about... no. Facciamo splash screen. Ok, questo splash screen è versione 280 beta. Vedete che c'è scritto in alto la data, 20 maggio. Quindi è presa... in realtà l'ho scaricata oggi. E quindi è una delle ultime. Sì, però l'avevo lavorato anche la settimana scorsa e la settimana prima. L'avevo già notato che erano tornati questi colori. Comunque se voi non siete dislessici non è un problema. Potete usare anche la versione che avete. Dovrebbe funzionare uguale. E... No, sì. Beh, i colori da un po', nel senso qualche settimana. Ma in realtà c'erano dei colori e iniziavano. Poi a un certo punto li hanno cancellati tutti. Perché li trovavano poco eleganti. E adesso secondo me li hanno rimessi perché... Proprio perché in effetti secondo me aiuta. Quindi una delle cose di Blender 2.8 che spero che non tolgano più... Ormai sapete che Blender 2.8 diventerà in versione definitiva, si spera, quest'estate. Quindi da luglio. Quindi la cosa interessante è perché vuol dire che da luglio poi non cambierà più. O almeno non più tanto. No? Invece adesso siamo ancora... Ancora... Sì, ma ripeto. Cioè, se vi trovate a vostro agio con la versione che avete, tenetela pure. Adesso... Vedete voi. Comunque io invece... A me mi serve perché così vado subito colpo sicuro. Vado nel Word. Che è questo. Tra l'altro non so se notate, si vede dal video, che il Word è un mappamondo. Come aumentare i caratteri? Sì, io l'aumento sempre per i video, ma... Allora, qui c'è un'opzione da file. Ah no, dove l'hanno messo? Su Edit Preferences. E le preferenze, che tra l'altro credo che ci sia anche un tasto che acceda alle preferenze, ma non me lo ricordo più. Comunque Edit Preferences. E poi qua andate nell'opzione dove dice Interface. E qui c'è la Resolution Scale. E io ne ho messo 1,50 perché da un lato sono un po' cieco e dall'altro lato, per farvi vedere a voi, è meglio che sia tutto molto più chiaro, no? Piuttosto che averli piccoletti. E poi l'altra cosa che di solito faccio, quando arrivo qua, è nella Navigation mettere Orbit Around Selection. Questo è abbastanza importante. Perché così, quando poi muovo l'orbito, va a posto. Poi ricordatevi che adesso qui hanno fatto una cosa che non è bellissima secondo me, che per salvare queste cose si clicca qua e si fa Save Current State per salvare l'opzione. Prima c'era una cosa che secondo me era più semplice. O quantomeno. Ok. Qui tra l'altro si possono fare un sacco di altre cose, incluso anche il cambio della lingua, che però non ve l'ho fatta vedere questa volta, il cambio della lingua, perché ho visto che in beta alcune cose possono funzionare quando c'è la lingua italiana. Ci sono alcuni plugin, come si chiama Addons, mi andavano in crash quando ero in italiano. Quindi ho cercato di rendervi... Sì, passeremo probabilmente in italiano quando poi sarà in versione definitiva, così altrimenti diventa un po' un problema. Poi torniamo a dove eravamo. Allora... Quindi abbiamo il nostro cubetto, abbiamo il nostro mappamondo, stiamo usando i nodi, background, quindi quando siamo nel mondo possiamo impostare le caratteristiche dell'ambiente circostante al cubo. E la cosa importante è di mettere il background, cioè praticamente l'immagine di sottofondo dell'intero mondo. E qui possiamo o scegliere un colore in realtà, quindi potremmo dire di... Potremmo anche fare cose di questo tipo, cioè avere il background giallo, giallino. Magari facciamo un giallino un po' giallo. Ecco, la prima osservazione che dovreste farvi è che in realtà non si vede, no? Il background. E perché non si vede? Perché qui siamo in questa modalità che è il solido. Modalità solido vuol dire che si vede un po' il minimo indispensabile. Per vedere come si vede veramente la scena, occorre andare in questa modalità, vedete dove c'è questa sfera di cristallo, che si chiama Rendered, vedete che sotto c'è scritto Rendered. Quindi se noi andiamo in Rendered, vedete che ci fa vedere lo sfondo che è diventato giallo. Ma in realtà giallo così è abbastanza brutto, infatti lo sfondo di solito è scuro, ma la cosa bella è quella di mettergli un environment texture. Environment texture. Vedete che gli ho messo un environment texture che non gliel'ho ancora definita e quindi è rimasta viola. Ora, il viola in Blender è il colore che vuol dire che manca la texture. Qualcuno di voi se ne accorta, no? Che se mette una texture da qualche parte e si dimentica di mettere la texture, poi rimane viola. Quindi per mettergliela occorre aprire la texture che si vuole mettere. Quindi facciamo apertura. E qui andiamo, ecco io mi sono messo un favorito. Qualcuno di voi forse mi ha anche detto che è difficile ricordarsi dove mettere le cose. Quindi una volta che qui avete trovato una cartella che vi piace dove avete messo le cose, quindi G, Blender, ad esempio Cubo Godot, ad esempio questo, se questa cartella è una cartella che usate spesso, andate quindi in favoriti, fate più, e qui vi compare quella cartella in modo tale che potete andare facilmente. Ad esempio qui avete un elenco di cartelle favorite. Questo è, credo, un piccolo trucco che permette di evitare di perdere. Questa sera Eva mi sembra che si lamentava che doveva sempre andare in giro a scoprire l'America, per trovare dove aveva messo le cose. Allora, prendiamo Blender dove abbiamo le nostre foto. Per vederle meglio sapete che possiamo vedere qua. Quindi qui possiamo vedere le foto sia per dati che anche e soprattutto per immagini. vedete che qui abbiamo un'immagine di una specie di deserto e un'immagine invece di un laghetto, questo piccolo porto, Small Harbor, che è il piccolo porto. Quindi prendiamo il piccolo porto e vedete che a questo punto l'immagine era un HDR ed è risultato a dentro. Ora, se notate, l'immagine si vede leggermente sfocata perché è un'immagine in realtà a bassa risoluzione. Se avessimo voluto un'immagine molto più precisa, dobbiamo scaricare la versione un po' più grossa. Solo che sono tendenzialmente, questa era 1,4 mega. Se avessimo scaricato la 16K, 359 mega. Vabbè, io ho la superfibra ottica, la posso anche fare, non so se voi anche la potete fare. 35 secondi. No. Allora, proviamo a scaricare Small Harbor, però questa risoluzione è molto chiara. Volevo solo farvi vedere la differenza nella risoluzione. Nel senso che qui vedete che l'immagine è leggermente sfocata, ma in realtà per i nostri fini va bene anche un'immagine così, perché a noi non è che interessi avere un'immagine iper cosa, perché l'immagine a noi serve per poterla eventualmente, diciamo, fotografare. E quando è fotografata sull'oggetto non è molto importante che sia precisissima. Però andiamo a vedere, allora, questa che abbiamo fatto, questa immagine, avete 367 mega, la copiamo e ce la portiamo religiosamente nel fotoblender qua. Facciamo Incolla, ok? E andiamo a vedere come verrebbe se invece prendessimo, prendessimo questa immagine. Quindi andiamo, siamo sempre qua, no? Nel mondo. Andiamo al background e qui gli mettiamo la immagine che andiamo ad aprire. E abbiamo questa immagine. Vedete che è talmente grossa che non ce la fa a visualizzarla qua. Vediamo se ce la fa a prenderla Blender. Quindi selezioniamo questa immagine qua. Direi che sta soffrendo il computer. Blender. Ecco, magari se facesse una cosa del genere voi, forse potrebbe crasharvi la vostra macchina. E magari mi crasherà anche questa mia macchina. Però ricordate che nel sito comunque c'erano anche delle risoluzioni intermedie. Io ho preso la 16K, ma c'era anche la 2K, la 4K, l'8K. Ora, se non si... ecco. Adesso l'ha presa e vedete che lo sfondo, non so se si nota, è nettamente più definito. Cioè è praticamente perfetto. Non è perfetto, non è perfetto, però è molto più chiaro. Ok? Tenete conto che se poi mettete questa immagine... Se mettete questa immagine dentro il... Sapete, quando poi andrete a mettermi il compito, vi chiederò di includere automatically pack into .blend. Quando si fa questo packing, quello che succede è che lui metterà dentro tutte le immagini che avete preso. Quindi in questo caso metterà dentro 400 megabyte di roba. Quindi per favore non fatelo nei compiti. No, no, infatti io ve l'ho fatto vedere per vostra cultura e spero che comunque vi abbia interessato, ma tendenzialmente voi usate magari quella più bassa o comunque una bassa per fare questi esercizi. Vendetta a tutti quella massima risoluzione. Beh, diciamo che metteremo delle regole. Se qualcuno mette un file... Cioè un blend non deve essere più grande, metteremo un vincolo. Per cui se è più grande di 10-20 mega non lo correggiamo. Vi daremo voti bassi. C'è già Emanuele pronto. Ok, allora quindi prima cosa... Allora, vi è piaciuto questo primo punto che era quello di... No, Emanuele non ce l'ha la superfibra, non ancora almeno. Ma... ma ce l'avrà, credo, fra... Anzi sì, la superfibra da un giga... Vabbè. Allora, adesso la cosa che ho fatto già vedere nei video, ma comunque lo vediamo... La bacchetta. Eh, le bacchette potrebbero essere una cosa interessante per... Per... Chi di voi si offre per fare un tutorial, per fare... Guarda che bello qua. Anche la rete sotto è venuta. L'avevo vista prima. Proprio caruccio questa cosa. C'è la rete, la cosa eccetera. Allora, stavo dicendo... Allora, un conto è il materiale del mappamondo e un conto è il materiale materiale del nostro oggetto. Allora, se noi clicchiamo qua, siamo sul nostro cubo e su questo cubo abbiamo una cosa simile a prima, nel senso che c'è un nodo, adesso poi lo rivediamo meglio con il nodo editor, però c'è la possibilità di specificare... Vedete che questo è un principled, un nodo che si chiama principled bsdf. Ora, se voi andate per caso su internet e cercate principled shader, poi bsdf, non so se sia proprio un termine di blender, comunque qui, ok, è di blender. In realtà, se voi prendete principled shader, quello che dovrebbe uscire... Vediamo un po' se troviamo... Disney. Vedete che c'è Disney? Perché c'è Disney? Perché è Disney che ha fatto questo oggetto. Disney principled. Vedete che andiamo su un sito dove ci spiega che gli oggetti 3D possono essere texturizzati con questa tecnica che impiega un principio che hanno fatto nell'animazione di film di Walt Disney in cui volevano ottenere degli effetti molto realistici ma nello stesso tempo gestirli in maniera relativamente semplice. Dico relativamente perché secondo me è comunque un pochino complesso ma è sicuramente più semplice che non farlo col node editor che avevo insegnato due anni fa perché in realtà è tutto qua. Praticamente i principled sono una serie di attributi che si danno al materiale in cui si definisce... vi faccio vedere le cose più semplici. si definisce il colore base... ad esempio si può dire se siamo bianchi piuttosto che un altro... si può definire se l'oggetto è metallico, se l'oggetto specchia, se l'oggetto è quanto... cioè quant'è la tinta speculare, di che colore è... e quella ruvidità, l'anisotripicità... insomma tutta una serie di cose che alcune non mi ricordo neanche più, anzi non le so. Questo clear coat voleva rendere il fatto che il materiale avesse una pellicola di un altro materiale che lo circondasse. Non so se avete presente tipo il pesce che ha una specie di cosa, di glassa sopra o anche le torte, no? si possono ottenere questi effetti praticamente di doppio materiale, quindi clear coat sarebbe altro se qualcuno di voi... tipo gelatina o altri. Ci danno questi effetti multipli. Poi questo IOR serve per fare i specchi, la trasparenza, transmission vuol dire trasparenza, emission vuol dire se si illumina, alfa è anche associato a trasparenza, c'è anche la normale. Insomma ci sono un sacco di cose, da qualche parte a subsurface e un'altra cosa molto particolare che succede quando ci sono dei materiali che sono... che praticamente... tipo la pelle umana. La pelle umana se l'è illuminata da dietro trasmette la luce come se fosse trasparente. anche se non è trasparente, quindi se l'è illuminata da dietro si vede praticamente una specie di colore che traspare attraverso la pelle. Ma ci sono molte sostanze che hanno questi comportamenti. Quindi noi ovviamente facciamo le cose semplici. Quindi per semplice vuol dire che noi ci interessiamo in questo caso soltanto del... per stasera soltanto della metallicità. Allora la metallicità è una cosa che può essere tipicamente o zero o uno. Quindi o una cosa è non metallica o una cosa è metallica. Allora quando è non metallica tipicamente sono le cose tipo la plastica che sono... che hanno... che assorbono più che riflettere la luce. No? Mentre invece se noi lo mettiamo tutto metallico vedete che ha un comportamento si vede anche qua che in qualche misura sta riflettendo. No? Come farebbe un metallo. Quindi è un aspetto un po' più metallico. però ciò che riflette dipende anche da quanto diciamo che riflette. Quindi c'è anche questa specularità che possiamo mettere a uno. Quindi se vogliamo ottenere uno specchio di quello che ho fatto nel video dobbiamo in questo principe BSDF mettergli il metallico, lo speculare e poi soprattutto ridurre la ruvidità, la roughness. La roughness se la mettiamo a zero abbiamo che il cubo diventa a tutti gli effetti uno specchio. Non so se si vede che sta specchiando ciò che gli sta... che gli sta sotto. Quindi lo specchio oppure in realtà uno specchio specchio non esiste in natura. Cioè questo qui è un po' artificioso. Quindi in realtà la roughness viene fatta un pochino. Normalmente non viene fatta a zero. Viene fatta per esempio a, non so, 0.1. Vedete che specchia sì, ma in maniera più realistica. Cioè questo è un metallo più realistico. Cioè il metallo raramente riflette proprio completamente. Ma riflette un po'. Quindi basta poco per ottenere degli effetti. Poi se si aumenta questa cosa vedete che la riflessione diventa ancora più realistica ancora. E questo tra l'altro, questo effetto, questa riflessione fatta con ruvidità non bassissima. Io la usavo in passato ad esempio per ottenere dei riflessi molto belli. Cioè qui potevo mettere qui dentro una superficie, un colore che fosse una texture tipo dorata. L'oro, no? L'ho fatto per fare ad esempio delle collane, dei bracciali o delle sostanze dorate. E gli mettevo la texture dorata e poi gli dicevo che comunque rifletteva, gli mettevo una cosa del genere, gli mettevo un ambiente attorno e l'effetto finale era estremamente realistico. Cioè perché non si vedeva il riflesso di quello che c'era ma la sensazione era di avere una cosa molto molto autentica. Anzi, addirittura era molto realistico per il fatto che non vedendosi chiaramente le cose che stava riflettendo poteva essere messo anche in altri ambienti, no? Perché se invece riflette totalmente, come in questo caso, riflette vuol dire che voi lo potete mettere solo in un ambiente in cui c'è quella roba lì. Cioè quindi ad esempio c'è una cosa del genere, se rifletteva totalmente aveva senso in OpenSim solo se attorno c'era un porto, un mare, no? Però se gli mettete invece questa ruvidità un pochino alta diventa un po' confuso e si ottiene questo specie di trucco per cui si può usare anche in altri contesti, ok? Quindi, detto questo, uno si domanda ma come faccio poi a utilizzare queste tecniche riflettive dentro OpenSim? Dentro OpenSim voi non potete mettere un HDR, no? Quindi non potete portare questa immagine dentro Craft o dentro il mondo però qual è il vantaggio di quello che dovremmo fare adesso? Che noi, supponendo che ci piaccia l'aspetto di questo oggetto lo vogliamo in pratica congelare, no? Quindi diciamo, vogliamo tenere questa sua specie di texture e lo facciamo attraverso quello che viene chiamato una cottura, no? la cottura, cioè l'han chiamata cottura, cioè bake perché leggevo che bake, poi correggetemi se sbaglio è anche il nome con cui si... come si chiama quella specie di forma d'arte in cui si fanno... la terracotta credo che sia, è la terracotta? Cioè si fanno dei disegni... ceramica, ecco grazie scusate, la mia... Chi lavora la ceramica praticamente cosa fa? Dipinge delle cose sulla ceramica, spero che sia così in qualche modo e poi però fin tanto che la dipinta rimane volatile perché sia diventi, diciamo, permanente deve prendere la ceramica e metterla in un forno e cuocere una volta che la cuoce l'immagine che è stata dipinta sopra diventa permanente e rimane quella quindi il motivo per cui... sì, letteralmente bake vuol dire cuocere al forno ma credo che si usi anche per la ceramica per le tecniche di cose vedi ecco perché noi adesso vi spiegheremo il baking ok, allora, però il baking per fare il baking occorre andare qui dove c'è la macchina fotografica e nella macchina fotografica in teoria dovrebbe comparire un'opzione di baking ma, come vedete, non compare quindi una delle cose più tristi che io voglio fare il baking so che dentro la macchina fotografica c'è il baking ma non c'è qual è il problema qua? che il baking in realtà lo si fa soltanto con dei motori di rendering che lo supportano e il motore di rendering che lo supportano era il vecchio blender engine blender blender engine si chiamava così che c'era praticamente nel blender 2.7 e che forse voi usavate noi default però in realtà il blender render si però col blender 2.8 quel motore lì l'hanno buttato via quindi non c'era più quindi noi siamo rimasti solo più con quello che è il cycles ora cycles è un motore di rendering che è considerato professionale quindi ed è una cosa che è abbastanza lenta quindi chi lavora con blender a livello professionale usa cycles e per ottenere le immagini eccetera deve fare quello che una sorta anche lì di baking per certi versi che può impiegare anche dei giorni infatti se voi andate a qualcuno che fa texturizzazione in blender si fa la sua scena la texturizza tutta in un certo modo e poi dice va bene adesso faccio il rendering e fare il rendering il rendering vuol dire sostanzialmente premere F12 quindi se noi su questa scena qua premiamo F12 vedete che otteniamo un rendering nel nostro oggetto però la qualità delle texture usate è bassissima per ottenere una qualità più alta dobbiamo passare al cycles quindi qua render engine facciamo cycles e vedete che cambia un po' di cose allora vediamo un po' se riusciamo perché qui già ah sta forse lavorando ah si perché deve lavorare tanto perché c'è la nostra immagine a 300 megabyte ok allora no adesso è pesante per quel motivo lì fondamentalmente però vedete che tra l'altro oltretutto da quello che vedete vedete che non fa più vedere lo sfondo ah no forse dobbiamo vedere qua per vedere lo sfondo vediamo un po' se ce la fa credo che se ce la fa ci impiegherà un po' ecco ci ha impiegato i 10 secondi questa macchina è già una macchina abbastanza potente che avevo comprato per la realtà virtuale e vedete non so se vedete che quando si usa il cycles non so se vedete quello che succede sul cubo e cioè che ci si vede che prima si sgrana no adesso si vede lo sfondo però ci ha impiegato 10-20 secondi a visualizzarlo pixelizza però dopo un po' si mette a posto vedete che qua c'è questo questo numerello che va fino a 32 ecco questo numerello è proprio il cycles cycles vuol dire che lui cicla cioè nel senso che in realtà quello che fa lui prende tutti i raggi di luce e li insegue per poter capire dove finiscono è una cosa molto molto sofisticata si chiama ray tracing quindi dà proprio l'effetto cioè fa una simulazione di raggi di luce che ci sono nell'ambiente ma che è quella però per poterli simulare deve prenderli uno per ciascuno e farli arrivare sì cycles vuole schede video molto performanti ma finché rimaniamo a 32 quelle cose che avete visto adesso anche computer relativamente lenti lo tengono poi tenete conto che adesso lui ha penato un po' perché gli ho messo l'immagine di sfondo quella da 300 megabyte no? comunque la cosa interessante è che una volta che voi avete il vostro cubo che è entrato in cycles avete anche l'opzione di baking la vedete qua quindi l'opzione di baking vuol dire che voi andate qua sul baking e avete un'opzione che vi permette di fare il baking questa roba qua però a questo punto arriva una parte diciamo un po' più un po' più strana della lezione di stasera che era i nodi allora come si fa a fare il baking? in realtà per fare il baking bisogna andare qui sullo shading quando si va sull'opzione di shading sotto compaiono i nodi della scena e il nodo della scena non so se avete capito questo ormai è un principled bsdf questo e c'è e questa praticamente controlla quello che abbiamo fatto prima qui tra l'altro c'è tutto metallica 1 specular 1 e la roughness qui tra l'altro vedete non si vede lo sfondo perchè abbiamo questa opzione qua per vedere lo sfondo dovremmo scegliere l'ultima proviamola intanto sappiamo che ci impiega i 10 secondi per fare la cosa updating lights quindi dopo 10 secondi dovrebbe arrivarci anche quella però se il nostro computer è lento ecco l'ha fatto quindi abbiamo il nostro cubo e dobbiamo fare il il backing del di tutto di tutti i riflessi che ci sono su questo cubo in una texture allora questa texture dobbiamo crearla qua in questo in questa lavagna quindi in questa lavagna cosa facciamo? aggiungiamo una texture image texture mi compare questa image texture mentre l'abbiamo selezionata cerchiamoci di crearne una questa è l'immagine dove ci faremo proprio la ceramica insomma che vogliamo quindi facciamo new e creiamo un'immagine che io di solito per convenzione chiamo baked ma voi potete chiamarla come volete di solito ci tolgo l'alfa perchè non la voglio trasparente la texture no la texture non esiste sta prendendo una texture vuota quindi dove ho preso la texture comunque te la vi faccio vedere faccio escape cancello e ripeto allora vado qua tra l'altro ricordatevi che siamo sull'oggetto perchè noi vogliamo fare il backing dell'oggetto quindi object poi qui facciamo add qui c'è scritto e qui scegliamo image texture quindi facciamo questo giro add texture image texture è chiaro? ma la texture in realtà è vuota non c'è niente perchè dobbiamo dobbiamo farla noi quindi facciamo image texture ci viene questo lo mettiamo qua e qui creiamo questa texture nera praticamente una texture nera che poi andremo a riempire col baking con la cottura quindi facciamo new gli diamo il nome baked togliamo l'alfa e poi facciamo ok quindi lui a questo punto ha creato un'immagine nera no? perchè la generiamo la generiamo noi dal nulla quindi cioè inizialmente è un'immagine vuota nera tendenzialmente tra l'altro per vedere questa immagine la possiamo vedere qui vedete che vedete che qui sulla sinistra sulla sinistra quando siete in modalità shading c'è praticamente un image editor e qui potete cliccare e andate su baked e vedete che l'immagine è completamente nera vuota ok? quindi abbiamo un'immagine vuota vogliamo riempirla allora questo ho chiesto prima a Emanuele lui mi diceva che l'aveva vista ma che riteneva che fosse fortemente controintuitivo e in effetti forse una delle cose più complesse di Blender i nodi e anche il backing perchè una cosa che ho impiegato mesi a capire è che questa immagine dovevo crearla qua doveva essere selezionata no? perchè se mi dimenticavo sempre o di crearla o di selezionarla e quindi non succedeva niente molto antipatico allora vediamo un po' se riusciamo a togliere la cosa e dopodichè visto che parliamo di backing andiamo sul nostro nostra macchina fotografica il backing è tostino però è quello che serve per OpenSIM perchè senza il backing tutte queste cose qua sarebbero completamente inutili no? e tra l'altro dicevo prima il backing viene usato molto nei giochi perchè piuttosto che fare tutti i riflessi in tempo reale in un gioco che ci impiegherebbe avete visto quanto ci è impiegato questo computer per fare il rendering di tutti i riflessi ci è impiegato 10 secondi no? se voi state facendo un videogame in cui vi muovete in un ambiente complesso se lui dovesse fare il rendering su ogni singolo oggetto di tutti i riflessi avreste bisogno di un computer grosso come la luna no? enorme invece se voi fate il backing di ogni singola cosa sul singolo oggetto poi diventa una texture normale quindi il computer la rende molto molto facilmente comunque torniamo al backing backing andiamo su backing in realtà il default va bene tra l'altro ricordate che fino a 3-4 anni fa il backing non esisteva per il cycle ed era molto più complicato bisognava cliccare da tutta una serie di parti che era complicato però qui in realtà prendete la l'impostazione di default e poi dite semplicemente bake ora se ho fatto tutto giusto clicco bake e qui sotto vi dovrebbe comparire una cosina che va da 0 a 100 ora vedete che adesso ci impiega un casino perché ci sono c'è la famosa immagine di background che è molto complessa però vabbè dopo un po' insomma 15-18 quindi ripeto usate sempre immagini a bassa risoluzione per evitare di aspettare perché da me vedete che alla fine ci sta impiegando sui 40-50 secondi ma se il vostro computer non è iperperformante questa stessa cosa con queste immagini di sfondo poteva impiegarci molto molto di più ok e quello che si è ottenuto è questa immagine qua che tra l'altro sembra un pochino come dire una presa in giro noi siamo impiegati un sacco abbiamo messo l'ambiente attorno eccetera per ottenere che cosa? quattro colori in croce e qui in realtà la cosa che può essere utile è di perché lui fa il backing del cioè praticamente ogni faccia di questo cubo praticamente gli ha dato un colore solo e questo è un pochino un problema nel senso che il backing viene meglio quando la superficie è curva no? quindi questo cubo nell'esempio che vi ho fatto vedere alla fine l'ho trasformato in una sfera e per trasformare in una sfera ho semplicemente fatto un control 3 control 3 aspetta un mestiere aspetta mettiamo questo ok allora scegliamo questo così un pochino più quindi ho fatto il control 3 l'ho fatto come una sfera e in più ho fatto anche un altro fenomeno che è quello di fare tasto destro shade smooth quindi l'ho fatto così vedete che così è diventato una cosa in realtà dobbiamo vederlo qua per vederlo con i riflessi proprio veri facciamo i soliti 10 secondi 10 e 15 secondi che ci deve fare tutto il rendering ok vedete che qui c'è un'immagine quindi per fare il backing dicevo meglio avere delle superfici un po' più curve e a questo punto ripetiamo l'operazione di backing quindi siamo sempre andati in situazione di prima facciamo il nuovo backing e quello che otterremo a questo punto sarà soliti 30 40 secondi che abbiamo visto prima dovrebbe venire una cosa un pochino più tra l'altro adesso me lo sono dimenticato me lo dimentico sempre quando si fanno le trasformazioni con il control 3 in realtà si aggiunge un modificatore che si chiama che si chiama subsurf subdivision surface questo e questo modificatore di solito conviene applicarlo però vedete che già abbiamo ottenuto questa texture che è già interessante vedete praticamente questa è una texture che si vede già che sta facendo una riflessione si vede il sole si vede questo eccetera eccetera in pratica poi nel video vi faccio vedere come importo questo oggetto e come importo la texture e gliela assegno e quindi quando vado poi a questo punto su qui vedete che abbiamo le sfere con le loro le loro le loro texture se noi prendiamo questa sfera andiamo in nella qui e andiamo a vedere le texture usate vedete che qui abbiamo una texture simile a quella che abbiamo visto poco fa la baked image smooth e questo è applicato su questa sfera si ottiene questo effetto che è comunque già molto notevole questa è la stessa sfera invece che non è stata smuttata e vedete la differenza è un po' quella che dicevo prima no il nodo della texture in questo caso va resciato separato perché serve proprio solo per aiuto al backing quella è proprio una tecnica del backing poi vabbè in open sim per ottenere l'effetto in rilievo semplicemente sono andato qua dove dice sui materiali nella bumpiness cioè nei normali gli ho messo bumpiness brightness altrimenti potevo mettere brightness che vuol dire che prende il rilievo in funzione del colore dell'intensità di colore che è uno degli effetti migliori perché sembra che uno proprio dipinga in open sim altrimenti si può fare la brightness la bumpiness sul darkness che praticamente fa la stessa cosa però invece di far venire il rilievo lo mette ma cerca di farlo andare dentro cioè i colori vengono incisi oppure altre cose un po' meno interessanti tipo wood grain che ottiene questo effetto così ho fatto comunque le striature bar che cos'è dove sia sughero cos'è bar che sughero mi ricordo voi che siete inglesi ma anche questi comunque possono essere interessanti per avere certi effetti checker lo fa insomma ci sono degli effetti ma io ritengo che il più interessante in open sim sia il brightness che ottiene praticamente questo effetto in rilievo allora il baking il baking serve diciamo che serve per ottenere delle texture con effetto realistico viene molto usato anche da chi fa anche da chi fa abiti per ottenere esempio quello che non so se avete mai sentito parlare di una cosa si chiama AO l'AO è un ambient occlusion sono delle ombre delle sfumature e l'AO viene fatta in pratica con tecnica di baking ed è molto usata da chi fa da chi fa abito eccetera in pratica vediamo un po' se riusciamo a vederlo ma dentro le opzioni nella macchina fotografica mi sembra che ci sia vedete qui c'è combined vedete che una delle opzioni è a fare solo l'ambiente occlusion quindi combined vuol dire che fa una texture combinata di tutto però uno potrebbe volendo potrebbe creare soltanto l'ambiente occlusion e quindi avere proprio questa cosa adesso nella sfera l'ambiente occlusion non è molto interessante perché verrebbe bianca ma se fosse un oggetto con dei rilievi o delle fosse l'ambiente occlusion già diventa interessante in pratica l'ambiente occlusion è un modo per far vedere i rilievi c'è una specie di normal map ad esempio quando c'è c'è un tessuto un po' plissettato credo che si chiama insomma che abbia un po' un po' di ombre che gli capitano attorno a seconda di come si mette di come si gonfia il si può generare quindi diciamo che lo strumento del backing diventa estremamente potente per fare questo tipo di mestiere quindi l'ambiente occlusion piuttosto che le shadow shadow è una cosa simile a quello che ho detto poi c'è anche la possibilità di fare il glossy che serve proprio solo la capacità di riflettere quindi fa vedere permette di ottenere solo delle luci che si riflettono insomma l'idea non è che voi diventiate super esperti in backing ma ci sono ad esempio delle dei metodi ci sono delle texture come Blender che permettono di creare delle texture partendo da del rumore da delle forme astratte no? che vengono usate per generare delle texture assolutamente originali perché il problema quando si usa Blender è che se si usano delle texture prese da internet a meno che non siano cc0 quindi liberamente usabili oppure buy cc buy no? che vuol dire che quando le usate dovete dire chi le ha fatte che però comunque è sempre un pochino complicato perché se voi avete una scena complessa non potete stare lì a dire gli abiti sono di Pippo le parrucche sono di Pluto eccetera eccetera no? i mini cioè dovreste se prendete delle texture cc buy e se ne avete tante diventa difficile veramente la gestione allora la scelta è o di prendere delle texture cc0 oppure meglio farsi direttamente il backing in qualche modo si prendono delle texture molto semplici oppure delle texture che sono dei rumori tra l'altro vi faccio vedere qui ci sono anche delle texture che possono essere prese ad esempio io posso prendere un ah vedete qui ci sono del noise texture questa qui è una texture che è sostanzialmente un rumore no? che se l'applichiamo l'applichiamo come colore genera adesso qui abbiamo un solito problemuccio che ci prende un sacco comunque una texture rumore praticamente si sovrappone vedete che genera un rumore una serie di colori no? questi colori possono essere alterati a piacimento per ottenere delle degli effetti incredibili tra l'altro ci sono dei gruppi su su facebook che spiegano come unire una serie di e tra l'altro questo è proprio il node editor a massima potenza cioè si prendono texture di questo tipo questo qui è un texture che fa questo rumore ne prendono una cinquantina di nodi così e si riescono a ottenere eh per vederli in open sim bisogna poi fare un backing hai capito qual è la cosa? cioè tu generi tutte le texture fatte così e allora genera un effetto che vedi lì poi devi fare il backing del risultato altrimenti quella texture che vedi lì rimane rimane lì e non la riesci a far uscire ecco perché il backing per i videogame e per open sim è una cosa fondamentale certo cioè se voi avete voi potete anche prendere delle immagini che fotografate voi se avete le o le macchine fotografiche che lo fanno oppure con le tecniche sapete no? che c'è la tecnica di prendere tot foto e poi metterle assieme per poter ottenere per poter ottenere ottenere un'immagine a 360 gradi e quella e queste cose le potete poi mettere come sfondo e poi farle per per ottenere quello che volete insomma e quindi già questa cosa qua è interessante per importarla lì basta che lo prendete l'immagine ecco forse non l'ho detto prima ma quando importate un'immagine vedete che qui c'è scritto equirectangular allora l'immagine che voi che voi scattate le immagini a 360 gradi di solito sono equirectangular infatti se voi cercate su internet cercate equirectangular images vedete che vi appaiono tutte immagini di quel tipo lì tutte quelle immagini di quel tipo lì sono già pronte per essere messe come sfondi chi tra l'altro di voi ha fatto il corso dell'anno scorso di High Fidelity si ricorderà che anche in High Fidelity usavamo queste immagini proprio per ottenere degli effetti poi sono delle immagini molto carine tipo questa questo è un ponte in sfondo e ripeto controllate i diritti di riproduzione e sono ct0 non c'è problema se fosse in realtà ci sono diversi strumenti per fare le foto 360 quindi questo equirectangular è un esempio a volte ci sono dei programmi che convertono immagini di altri formati però il mio obiettivo non è quello di spiegarvi come costruire un'immagine rectangular dunque se tu perché non hai fatto l'applicazione allora due sono le cose quando voi fate innanzitutto ricordatevi di fare l'applica se voi fate l'applica se aveste fatto l'applica vi sarebbe venuta la sfera giusta ma in realtà c'è anche un altro trucco ancora applicare il modificatore qui cliccando sulla chiave inglese ricordatevi di fare l'applica del modificatore ma in realtà c'è anche un altro trucco che tra l'altro questo l'abbiamo anche discusso con Marlu ieri discusso indirettamente quando fate l'export vedete che qui compare il doppio elettro preset ecco io non l'avevo fatto vedere nei miei video precedenti ma giustamente Marlu mi diceva ma perché non dice di fare SL più open sim static se voi fate SL più open sim static lui mette degli opportuni spunti qua e una di queste spunte è apply modifiers cioè applica i modificatori da solo quando esporta ora se voi il modificatore l'avete già applicato come ho detto prima allora va bene ma se il default è quello di non applicare i modificatori quando si esporta in collada invece con questa opzione anche se vi siete dimenticati di applicare il modificatore lui lo applica comunque quindi funzionerebbe no il default non è quello restore defaults se andate a vedere non c'è no diventa di default se voi prendete il preset del SL più open sim static capito? ah e lui appega tutti i modificatori quando tu se tu gli metti qua lui praticamente lo fa di tutti i modificatori però il modificatore lo applica solo se tu glielo dici qua quando fai l'export con l'ada oppure quando vai qui nell'opzione devi dirglielo tu non so se è chiara questa cosa del modificatore cioè il modificatore in realtà è una cosa che abbiamo visto poco è vero ma è un un modo per è un modo per trasformare un oggetto faccio vedere un secondo faccio ctrl z ok qui ad esempio il modificatore non è applicato no? però il concetto vediamo un po' se riusciamo a vederlo in ecco vedete che qui questa sembra una sfera ma in realtà vedete che non è proprio una sfera in origine questo era un cubo vedete che si vede che è stato che è stato praticamente modificato da questo subsurf che praticamente il subsurf è un subdivision surface è un modificatore che ammorbidisce che arrotonda tutte tutte le cose che hanno degli angoli quindi vedete il cubo ha angoli da tutte le parti quindi l'arrotondamento di tutti gli angoli applicato a un cubo vuol dire che smussa tutto e diventa una sfera no? ok però il fatto che smussi lo fa lo fa in maniera dinamica nel senso che se il cubo originale viene cambiato no non lo applica di default devi fare attenzione tu che lo applichi dicevo la cosa interessante di questa cosa che se voi modellate potete modellare come se fosse un cubo e poi se voi spostate un pezzo del cubo praticamente il subsurf continua a modificare l'oggetto partendo dal cubo iniziale quindi in questo caso avvenirebbe una specie di uovo questo tra l'altro è un modo per fare un uovo ad esempio cioè si prende la la superficie questa che fa s z ad esempio vuol dire si ottiene una roba tipo uovo sapete fare un uovo in blender? con il modificatore subsurf si fa abbastanza facilmente questo modificatore io l'ho fatto col control 3 però si poteva fare analogamente con add modifier subdivision surface e si ottiene adesso qui vedete che in realtà c'è un lo fa un pochino più meno bene perché bisogna aumentare il bisogna aumentare questo viewport e si deve mettere 3 il control 3 fa questo effetto diciamo lo fa per noi ok e quando si fa le ply di un modificatore si perde diciamo la gabbia in questo caso quindi faccio le ply dobbiamo farlo però in object mode si fa le ply e quindi a questo punto lui ti fa vedere l'uovo e non c'è più la traccia del cubo iniziale eh c'è una domanda che ormai sì abbiamo finito ci sono domande veloci no la texture è complicatissima dargliela quindi è meglio caricargliela a parte cioè io tutti gli esempi che ho fatto ho fatto il ho portato le texture separatamente rispetto agli oggetti e così vado molto più più tranquillo perché se devo se mi devo basare sul fatto di prendere la texture automaticamente sì prova a importare se vuoi se vuoi direi adesso qui c'è poco spazio quindi se volete importare delle cose è meglio importarle poi di là nell'edu 3ds forse la sfera credo che sia più o meno giusta se poi gli metti la texture io ho visto che nelle prove che ho fatto io ci impiegava parecchi secondi uscire se sei riuscita a metterla nel tex la texture la devi importare anche lei separatamente e poi applicagliela spostandogli da sopra comunque direi che il compito che poi vi darò per questa settimana sarà quella di fare la sfera che è l'esempio che ho fatto io che forse è il più facile con uno sfondo di vostra scelta oppure se volete fare anche un altro oggetto e farlo un pochino riflettente in modo tale da ottenere da ottenere qualche effetto in più insomma però diciamo che se lo fate come avevo spiegato io diventa sicuramente abbastanza facile e veloce se volete fare delle cose molto più sofisticate può darsi che ci siano dei problemi di UVMap eccetera quindi in ogni caso vi consiglio di fare prima la sfera perché sappiate che siate consci di tutto il processo e poi se proprio vi viene potete fare qualcosa di più complicato se qualcuno di voi vuole allora io giusto per non fare la lezione troppo lunga nella registrazione direi tra un momento sospendo la registrazione che poi devo fare tutto il giro per farlo il backing della registrazione e caricarlo su YouTube e come al solito direi ci si vede poi la settimana prossima con dei tutor quindi Emanuele Eva ma se c'è poi qualcun'altro di voi che vuole far vedere delle cose direi che anche se magari a difficoltà può essere bellissimo anche far vedere delle delle cioè non soltanto le cose che le ciambelle col buco ma anche ma anche i difetti no? allora io direi che se siete tutti d'accordo se Eva e Emanuele possono lo ci sentiamo martedì prossimo poi per caricare la sfera in OS è un punto collada quindi in teoria dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice eventualmente io adesso sono un po' cotto quindi non non sto a lungo ma se qualcuno vuole dare una mano a chi ha dei problemi a importare tipo non so se Eva vuole aiutarmi aiutare più che altro Annalisa volentieri allora io per adesso vi saluto e chiudiamo il zoom quindi buonasera a tutti vediamo un po' se riesco a chiuderlo a chiudiamo con